E allora buongiorno, siamo qui a Rodica Organico, qui alla Bulli Hotel e stiamo per intervistare un pochettino di persone che hanno passato una settimana in nostra compagnia per capire cosa ne pensano della struttura e come si sono trovati in questo villaggio. E allora partiamo dalla nostra prima ospite con questo bel cappellino, penso sia la figlia di Albano, Luana, buongiorno, volevamo sapere questa esperienza qui a Rodica Organico, com'è andata questa settimana? Sì, ma una settimana stupenda, fatta di tante persone fantastiche, uno staff meraviglioso, i miei bambini si sono divertiti tantissimo, sono già tristi perché li lasciano, si sono innamorati della loro Laura, quindi sicuramente li lascerò qui con voi, non scherzo, li porto con me, però veramente veramente organizzato tutto benissimo. Siete fantastici, si vede che c'è affiatamento tra di voi e i risultati padano. Ancora tanti complimenti alla struttura, come tutte le cose c'è sempre qua, chi vuole un po' di più, chi vuole un po' di meno, però c'è sempre tempo per migliorare e sicuramente questa è stata una settimana che porterò con voi. Grazie mille ragazzi. Bello, grazie a te, grazie a te di essere stata qui con noi, di esserti divertita con noi, di aver partecipato alle nostre attività e noi ci auguriamo l'ora di rivederti tra delle nostre strutture a Pule. Sicuramente. Perfetto, allora grazie, buona giornata. Grazie.